Aung San Suu Kyi è stata condannata a tre anni di reclusione ai lavori forzati da un tribunale della giunta militare del Myanmar per frode elettorale. La leader della Lega Nazionale per la Democrazia, Nobel per la Pace, nel 1991 figura di spicco internazionale, è finita nuovamente in carcere all'indomani del golpe militare nel novembre del 2020.